Tu sei Giorgia, sei una donna, sei una madre, sei cristiana e sei la compagna di un uomo che anno dopo anno si è rivelato diverso da quello di cui ti eri innamorata. Sopporti che il potere, cioè il tuo potere, dia quasi più alla testa a lui che a te. In fondo siete un esperimento, mai in Italia avevamo avuto una donna premier e un principe consorte. Forse ci sarebbe voluto un maschio femmina, sensibile, discreto o almeno capace di percorrere le non sterminate praterie di uno studio televisivo senza grattarsi di continuo il cavallo dei pantaloni. Invece il tuo principe consorte è un maschio alfa, anzi un maschio alfetta, soffre di passare per il compagno di e soffrendo scalpita e scalpitando va oltre, in onda e fuori onda, mettendo in imbarazzo colleghi e soprattutto colleghe, ma più di tutti te. Tu che sei Giorgia, sei una donna, sei una madre, sei cristiana e però sei anche una a cui la vita è insegnato fin da piccola che quando si chiude, si chiude una relazione umana senza tante pause di riflessione. E questa, lo riconosco, è una formidabile lezione di educazione sentimentale. Chi ci manca di rispetto non ci ama e chi non ci ama va lasciato in modo netto perché arrivati a un certo punto il dialogo ha esaurito la sua spinta propulsiva o, per dirla come la diresti tu, le chiacchiere stanno a zero. In altre parole, dopo la pubblicità.